C'è la paura, forse, che non prendano sul serio un amore giovane. Mi è capitato di dire ho sofferto per amore e mi hanno guardato come per dire sì, vabbè, ma che ne puoi sapere te? Eh, dove vai? Brava. Da adulto io rispetterò con tutto me stesso l'esperienza di un giovane perché col senno di poi mi piacerebbe che un adulto riconoscesse la mia esperienza di vita. Felsa Nozpetech, che ti dice dal nulla Sai, Mina ha visto il tuo provino. Cosa? Chi? Mina, Mina. E ho detto, eh, ha detto che sei meraviglioso, ha chiesto da dove è uscito, pazzesco, incredibile. Siamo qui con Damiano Gavino. Ciao. A Fanpage. Era, diciamo, più un sogno che si è realizzato piuttosto che una reale intenzione, no? Quella di diventare attore. Sì. Io dico sempre che avrei voluto avere a che fare con il mondo del cinema, che fosse dietro le quinte o davanti, però non avrei mai avuto il coraggio di intraprendere una strada del genere. Perché si sa, è un po' rischiosa, cioè non è un lavoro che ti dà tante sicurezze, ci sono dei periodi in cui ti vieni portato su, dei periodi in cui vieni lasciato giù senza fiato. Quindi diciamo che ho la consapevolezza che ho vissuto sia il lato positivo che il lato negativo di questo lavoro, no? Ecco, a questo proposito, come gestisci le attese? Ci sono delle attese sia tra un lavoro e l'altro, ma anche mentre lavori, nel senso che, se non sbaglio, Mastroiane diceva una cosa del genere, ovvero io mi faccio pagare per le attese e non per recitare. Recitare fai quello che ti piace, cioè stai facendo quello che ami, ti diverti da morire, tiri fuori tutte le tue emozioni tra un ciak e l'altro. Cambiano inquadratura, cambiano luce, ci vuole un po' di più e tu devi cercare di tenere l'emozione che hai portato nel primo ciak. È una sorta di attesa continua che però anche quella fa parte del lavoro. Senti, hai più volte citato Alessandro Dalatri come colui che ti ha iniziato a questo mondo e ti ha mai detto cosa ha visto in te, in quel provino, da fargli pensare che potresti essere un bravo attore? Io mi ricordo perfettamente quel primo provino. Sono grato e sarò sempre grato ad Alessandro per quello che ha fatto proprio in generale, per il coraggio che ha avuto nel volermi. Diciamo che la cosa che lui disse, nonostante la casting gli avesse detto guarda che lui non ha mai lavorato, l'ha reso chiaro più volte. Lui ha detto sì ma ha portato una proposta bellissima. Io stavo lì e dice ma che proposta? Io ho semplicemente detto delle battute nel modo più naturale possibile per quanto potessi fare. Poi mi guarda bene e mi ha detto tu c'hai gli occhi tristi. ha capito insieme a me che avrebbe potuto portare quel sentimento di un po' malinconia, un po' di voglia di spaccare il mondo perché comunque c'hai tanta magari rabbia anche incompresa sia da te che dagli altri e quindi diciamo che lui da lì ha capito che avremmo potuto portare insieme questo sentimento nel personaggio di Manu perché appunto c'era tantissime sfaccettature già dalla prima stagione. Stai portando questo lascito anche in questa seconda stagione? Ammazza, va da morire. Tra me e Nicolà che all'inizio ci eravamo incontrati al suo primo provino che io insomma gli davo le battute e poi per caso hanno detto vabbè scambiatevi, fai un altro provino te. Perché comunque ne ho dovuti fare un po' di provino. Però lui ha creato questi rapporti umani che noi abbiamo portato avanti, non li abbiamo portati avanti perché li ha creati lui, ma perché erano autentici. Quindi credi che l'autenticità sia stato il valore aggiunto anche nel rapporto in scena tra il tuo personaggio e Simone? Sì, sì, decisamente. Pensa che magari noi non è che c'eravamo così tanto attenti al fare magari ciò che poi il pubblico ha notato che erano magari quegli sguardi un po' così. Quindi noi seguivamo una linea di pensiero con Alessandro ma anche con Nicolà in cui abbiamo lavorato tantissimo ma senza pensarci troppo. Eravamo in scena, cioè sentivamo il pericolo l'uno dell'altro nel mettersi in determinate situazioni, la voglia di aiutarsi, questo rapporto molto profondo come hai detto tu e sì decisamente questo è dovuto ai rapporti che sono veri anche nella vita ma anche con i ragazzi della classe. Senti, un professore sin dalla prima stagione è una serie che ha avuto un successo forse anche inaspettato e che si ripropone anche di parlare al pubblico adulto. Cos'è che secondo te gli adulti devono imparare dalle nuove generazioni? Di credere nelle nostre esperienze. Nel senso succede che gli adulti non ti prendano sul serio perché dall'alto ovviamente della loro esperienza, come è giusto che sia, ogni tanto magari ti screditano un po', ma non screditano te come persona ma le tue esperienze perché tu non l'hai mai fatto, non ne puoi capire nulla, oppure tu l'hai fatto poche volte, non puoi essere come me. Però io sono dell'idea che le nostre esperienze, per quanto poche in quantità, siano magari più profonde e più forti rispetto a quelle che ha avuto una persona adulta. Da adulto io rispetterò con tutto me stesso l'esperienza di un giovane, perché col senno di poi mi piacerebbe che un adulto riconoscesse la mia esperienza di vita. Parlando invece appunto di rapporti, il rapporto tra Simone e Manuel, soprattutto nella prima stagione, è per certi versi un po' ambiguo e si tratteggia quello che potrebbe essere anche un amore tra due ragazzi. Sei stato protagonista di Nuovo Limpo, dove invece l'amore viene proprio raccontato in maniera completamente diversa. Facendo una differenza tra le due esperienze che hai avuto, credi che nella tv pubblica ci sia ancora molta reticenza nel raccontare l'amore con libertà? C'è la paura forse che non prendano sul serio un amore giovane, che è una cosa alla quale ho pensato più volte. Perché appunto mi sono trovato in situazioni in cui mi è capitato di dire ho sofferto per amore e mi hanno guardato come per dire sì, vabbè, ma che ne puoi sapere te? Eh, dove vai? Brava. Ma in realtà non è così, perché dipende tutto da come vivi le cose, cioè è molto soggettiva la cosa. Però forse sì, visto che si fa tutto in modo tale che il pubblico possa riconoscersi nella storia, ma anche non solo il pubblico giovane, ma anche il pubblico adulto, diciamo che c'è forse un blocco nel raccontare l'amore nella maniera in cui viene raccontato nel film, in maniera così esplicita e chiara, no? A proposito di Nuovo Olimpo, c'era qualcuno che vi ha indirizzato, vi ha accompagnato nel girare delle scene intime? Allora sì, c'era questa persona ovviamente, che ricopre il ruolo di intimacy coordinator, che è stata messa a disposizione da Netflix, con la quale abbiamo collaborato io e Andrea Di Luigi, l'altro protagonista del film, anche con Aurora Giovinazzo e con Ferzan. Erano scene molto delicate, io e Andrea non sapevamo perfettamente come approcciare al corpo dello stesso sesso, quindi ci hanno spiegato anche quello. In una maniera molto tranquilla, armoniosa, siamo riusciti a portare in scena quel tipo di scene lì. Ci sono dei sentimenti che prevalgono, c'è la passione, ma c'è anche poi la malinconia, quando il mio personaggio cresce, quando il personaggio di Andrea cresce. Sono tutte cose molto profonde che fanno sì che quelle scene di sesso passino in secondo piano. Abbiamo parlato di amori diversi. Damiano, come vive l'amore? Parlando con un mio amico, che non è stato fidanzato per più di quattro anni, adesso sta con una nuova persona, proprio nel primo periodo mi ha detto che l'altra volta mi è capitato che se n'è andata da casa mia e mi è venuto da piangere. Non so se è perché mi ricordo il dolore che si prova quando finisce o perché per la prima volta riprovo delle sensazioni che solo l'amore può farti sentire. E io gli ho detto, guarda, probabilmente è tutti e due, però è una cosa bellissima quella che mi ha detto. Effettivamente tu ti commuovi quando ritrovi una sensazione che sia l'amore o che sia comunque una sensazione forte che non sentivi da tanto. È una cosa molto bella e profonda questa. E cerco di viverla così, ecco. Questa pluralità di emozioni, sei riuscito a canalizzarla anche in scena? Io è come se portassi ciò che per ora nella mia vita ho provato, però con i panni di un'altra persona. L'ho fatto con Manuel e l'ho fatto con Enea, in Nuovo Olimpo, soprattutto con Enea. Cerco tramite l'istinto, ma anche proprio basandomi sulla sceneggiatura. La sceneggiatura di Ferzan era molto chiara. Tutte le cose che c'erano sotto quando parlavano semplicemente erano scritte. Quindi insieme a Ferzan abbiamo capito come Enea avrebbe potuto portarle poi in scena. Hai detto che sei molto differente, soprattutto da Enea. Come ti descriveresti? Cerco di essere una persona molto disponibile, generosa e soprattutto di cercare di vivere il mio privato nella maniera più privata possibile. Ecco, a proposito di questo, un professore ti ha cambiato la vita da questo punto di vista. Come si vive l'ondata di popolarità? È molto affascinante e particolare vedere che le persone si emozionano nel vederti. Tu in qualche modo, con il lavoro che fai, tramuti in verità un sentimento, racconti una storia nella quale le persone si sono riconosciute. Questo per me è bellissimo, ma vedere anche persone molto più grandi di me che mi vedono e mi chiedono la foto tremando, capito? Per me è una cosa che mi viene anche da ridere perché se mi conosci, sono una persona talmente tranquilla e che proprio questa cosa non ci pensa, mi intenerisco anche un po'. Però allo stesso tempo mi fa piacere e in qualche modo capisco che a un certo punto si può perdere la testa per questa cosa qui perché è una cosa che in qualche modo crea anche un po' di pendenza. Non parlo per me. Una terza stagione di un professore pensi ci sarà? Boh, non lo so, non si sa. E un film con Lea? Quando lo facciamo? Mi auguro presto. È una cosa alla quale bisogna stare molto attenti perché non è che possiamo fare dieci film insieme, ecco, perché comunque ci assomigliamo, non possiamo fare neanche gli amanti, ecco, questo mi pare chiaro. Ci pensiamo ovviamente tutti i giorni, ma non vogliamo avere fretta nel farlo perché appunto sappiamo la rarità di questa cosa qui e vogliamo sfruttarla al massimo per una cosa di grande valore narrativo, ecco. Non c'è competizione tra voi? No, assolutamente no, anzi, c'è molta collaborazione, ma anche nel primo provino di un professore lei mi aiutò molto. Non è proprio scontata come cosa. Lea prima di prendere un sì ha preso tanti no, io al primo provino ho preso un sì. Quindi diciamo che in qualche modo avrebbe potuto darle fastidio, però così non è stato e anzi, quando riceviamo dei self tape o dei provini da fare ci aiutiamo a vicenda. Che effetto fa a sentirsi dire da Mina, è meraviglioso, da dove è uscito? Sono tornato a casa che non ci credevo, cioè è assurdo. Andare a quell'incontro con Ferzan, con Ferzan Ospetek, che ti dice dal nulla, sai Mina ha visto il tuo provino, io ho detto, cosa? chi? Mina Mina. Io ho detto, eh, ha detto che sei meraviglioso, ha chiesto da dove è uscito, pazzesco, incredibile. Io ero lì, secondo me ero diventato verde praticamente, e che mi tremavano le gambe, perché ti giuro, è una sensazione assurda. Percepisci che, il mostro sacro della musica italiana, ti ha visto e ha percepito un qualcosa in te, come tu l'hai percepito in lei, come tutto il mondo penso, ed è una cosa, una riconoscenza per me unica. Quella sensazione lì me la porto dietro, per tutta la vita me la porterò dietro. E quindi hai del talento, ce l'hai? Boh, non lo so, qualcuno vede questa cosa in me, io cerco di non pensarci, proprio perché non sono consapevole delle qualità attoriali che ho, perché non le ho mai studiate, mi affido talmente tanto all'istinto, che mi dico da solo, non c'è pensare al talento, non c'è pensare alla tecnica e roba, fai e basta, fai quello che ti chiedono soprattutto, c'è il regista che ha delle necessità e tu devi seguire le sue necessità narrative ma anche sceniche, quindi devi mettere in scena ciò che lui vuole, ecco.